Allora, ho appena finito di fare una cosa qui Sono dietro la villa, quindi parlo piano Però sempre della rubrica Pagato un cacchio, sto figo Zara La mia rubrica appena nata si chiama Dove ho comprato cosa? E assolutamente sì, ve la metto in evidenza Non sto ridendo perché ho sbagliato completamente il nome della rubrica Vabbè, comunque avete capito il senso Questa è la tutina Comodissima, senza cuciture Complimenti Giulia per questa tua esperienza incredibile E come sai bene Non è e non sarà facile Non è e non sarà semplice E anche se fai e se farai bene Ci saranno sempre quelli che diranno che fai male Ma sai benissimo come funziona Forza Giulia Forza Giulia Che sei una forza della natura Grazie a tutti.